Non bisogna abbassare la guardia, non bisogna assolutamente allontanarsi da quelle che sono le norme di protezione che sono state quindi ripetute più volte e che purtroppo non vengono adeguatamente seguite perché sappiamo che il virus continua sempre a circolare, può fare molto male, fa male anche a livello intrafamiliare e d'altra parte il Natale come le altre giornate sono giornate diciamo quindi certamente molto a rischio. Consapevolezza ed attenzione per evitare un'ulteriore diffusione del contagio è dunque questa la raccomandazione per le festività natalizie del dottor Raffaele Scala direttore della pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo da mesi in prima linea a combattere il Covid-19 e il reparto. Direi a questo punto dobbiamo festeggiare o sentire il Natale anche in modo diverso da quello convenzionale Tutti purtroppo non avremo la possibilità di poter stare in contatto con tante grosse tavolate, con tanti familiari ma questo non significa stare lontani da loro quindi la priorità certamente è questo aspetto della sicurezza e della salute che deve essere un'occasione per approfondire e guadagnare in termini di rapporti umani che negli ultimi periodi certamente sono stati molto deteriorati e non soltanto dal virus. C'è il rischio che dei comportamenti sbagliati possano portare a una terza ondata che potrebbe essere ancora più grave? Non è, non lo dico soltanto io, non è un rischio, è una certezza è una certezza perché sicuramente adesso con l'avvento del vaccino abbiamo un'arma in più che certamente per la sua efficacia su larga scala ovviamente per la quale dobbiamo aspettare sicuramente del tempo quindi l'unica arma che abbiamo è quella di ridurre la circolazione di questo virus che effettivamente è molto 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 contagiante quindi è una sicurezza nel momento in cui andiamo ad allentare il tipo di controllo purtroppo rischiamo diciamo, ecco abbiamo visto come la seconda è stata molto più devastante rispetto alla prima perché il virus è entrato e ha devastato famiglie soprattutto quindi è una certezza, quindi spetta soltanto a noi poter evitare questo tipo di disastro. Un altro appello poi arriva anche dalla centrale del 118 di Arezzo. Il consiglio da dare soprattutto è sempre il solito adoprate l'emergenza quando venite avete bisogno perché distogliere un mezzo di soccorso per una cosa che non ha dignità di essere in emergenza vuol dire togliere a qualcun altro che in quel momento non ha bisogno quindi adoprate e continuate ad adoprare l'emergenza con saggezza, con testa ma soprattutto stateci vicino perché abbiamo bisogno di sentire anche il calore dei nostri cittadini quando lavoriamo. Quello che sta per concludersi infatti è stato indubbiamente un anno particolarmente impegnativo per tutti gli operatori del 118 a Retino. A parte il Covid ci ha visto nella prima fase abbastanza coinvolti e ci ha visto soprattutto ammalati perché siamo ammalati tutti, io compreso e quindi c'è stato un momento in cui il nostro 118 aveva perso la dirigenza perché eravamo tutti a casa ma in malattia e i nostri ragazzi sono stati formidabili, eccezionali, hanno gestito comunque la situazione al meglio. Il lavoro è stato tanto, abbiamo messo in campo tantissime nostre energie, perché siamo passati da momenti di sconforto a momenti di gioia come gli ultimi dove ci hanno riportato alle cronache nazionali, anche i braccialetti, cioè non ci siamo fermati, quando abbiamo trovato qualche novità abbiamo sempre cercato di metterla a disposizione ai cittadini e questo devo dire grazie ai medici e infermieri che lavorano nel 118. L'unica cosa che non dobbiamo scordarsi però sono i volontari, sono lo strumento fondamentale, il nostro braccio armato. Noi ci siamo, ci siamo anche nel 2021 e nel 2022 ci saremo sempre, porteremo sempre delle novità, porteremo sempre qualcosa che serva ai nostri cittadini della nostra provincia di Arezzo.